Io stavo col Molina, se ne va a Godirin, attenzione, a Godirin, a cancia, entra in aria, è solo, a Godirin, ed il gol del Foccia, ed il gol del Foccia, è incredibile, è incredibile quello che sta accadendo al Ciro Vigorito, è incredibile, il Foccia prova il gol a 5 minuti dalla conclusione, dopo aver giocato praticamente quasi tutta la partita in 9 uomini, è assurdo, incredibile, incredibile, sarebbe davvero un'impresa storica, eroica, dei rossoneri, gol del Foccia, a Godirin, il Foccia trova il gol del vantaggio a 5 minuti dalla conclusione, ecco le lacrime, le lacrime di a Godirin, spinito, è la festa sotto la curva dei tifosi del Foccia, il gol di a Godirin a 5 minuti dalla conclusione, e saranno probabilmente 5 minuti più recupero lunghissimi, ma il Foccia signori ha in vantaggio a Benevento 1 a 0, i 9 uomini, Foccia ha in vantaggio a 4 minuti più recupero dalla conclusione, eccolo qua, Godirin, le lacrime, le lacrime del nigeriano, dentro quelle lacrime c'è tutto, la gioia, la rabbia, la voglia di tornare a casa con un risultato che avrebbe davvero del clamoroso, dello straordinario, Foccia adesso allontana il pallone.